Perché mi piace questo giardino e perché mi piace questo orto? E soprattutto perché vengo volentieri in questi luoghi. Perché questo è un giardino dove c'è tanta storia e la storia è importantissima anche per un giardiniere, ma lo è anche per il visitatore. Di fatto questo è un luogo dove possono venire tutti. Non è il giardino o l'orto per il collezionista, l'amatore particolare, è per tutti. Qui i bambini hanno la possibilità di spaziare, chi ha passione per l'orto c'è un orto fantastico, chi ha passione per i fiori ad ogni periodo dell'anno c'è un momento di fioritura, per cui è interessante anche per questo. Ci sono questi alberi monumentali che raccontano anche loro la loro storia e quindi tutte queste componenti in un unico luogo non si trovano dappertutto. Qui si viene volentieri soprattutto per questo. è un maestro giardiniere che insegna a coltivare di fronte a tanta bellezza e propenso anche a raccontare la bellezza. Quindi vengo di proposito per poter raccontare quanto di bello c'è in questo giardino.